Musica Dal consiglio regionale Disco Verde al bilancio di esercizio 2020 di Fondazione Sistema Toscana che registra un utile di 199.000 euro in sostanziale invarianza rispetto al risultato dell'esercizio precedente Le sfide della politica internazionale poste dalla guerra in Ucraina i ragazzi e i ragazzi del Parlamento regionale degli studenti incontrano i docenti universitari Serena Giusti e Alberto Tonini Presentata a Palazzo del Pegaso la dodicesima edizione del Festival del Giallo di Pistoia una tre giorni rivolta agli appassionati del settore e non solo Fondazione Sistema Toscana ok al bilancio di esercizio 2020 Con 20 voti favorevoli e 16 contrari il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate Il bilancio di Fondazione Sistema Toscana si è chiuso con un utile di 199.000 euro il valore della produzione è di 9.367.000 euro di cui 8 milioni provenienti da contributi da Regione Toscana l'89% del totale mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni da attività commerciale ammontano a 268.000 euro Il costo della produzione è pari a 9.110.000 euro di cui il costo del personale è pari a 3.374.000 euro Il bilancio ha avuto un iter complesso che ha richiesto approfondimenti e l'adempimento ad alcune prescrizioni derivanti da un primo parere negativo dell'Ufficio Finanziario della Regione che era intervenuta sulla questione dell'esigibilità dei crediti IVA Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana che è una fondazione partecipata all'83% dalla Regione Toscana quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della Regione e questo ci ha un po' insospettiti siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi a oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della Regione non solo, guardando i bilanci, ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la Regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio la Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana quindi qualcosa di surreale cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo perda 600 mila euro all'anno il nostro voto è stato negativo infatti è emblematico che oggi marzo 2022 si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020 ci sono state varie problematiche infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio diciamo che è stato detto che le cose andavano bene abbiamo votato in commissione qualche giorno fa è passato a maggioranza noi diciamo cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana qualcosa c'è che non funziona lo dicevamo anche negli altri anni va avanti con il 90% di soldi regionali quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro non solo ai 71 dipendenti ma anche a consulenti esterni perché la fondazione ha ben 4 milioni e 600 mila euro di consulenze che non vengono nemmeno specificate nella relazione per questo ho fatto una specifica richiesta di accesso agli atti perché voglio avere i dettagli di dove sono andati a finire quei 4 milioni e 600 mila che non si sono verificati soltanto nel 2020 ma anche gli anni precedenti quindi qui c'è un problema di gestione non di dipendenti perché i dipendenti eseguono essenzialmente il lavoro che gli viene fatto e gli viene richiesto quindi il problema è la gestione come dicevano anche altri colleghi in aula non si capisce perché in 17 anni è stato mantenuto sempre lo stesso dirigente c'è un grande lavoro da fare che è quello di prendere sul serio un piano di razionalizzazione che è quello di evitare di continuare a propinare annunci dove si moltiplicano le società partecipate che sembrano quasi la panacea della risoluzione dei problemi della Toscana quando in realtà ciò che emerge oggi è che nessuno pare essersi occupato quantomeno negli ultimi 10 anni della reale funzione di questo tipo di strumenti e di quanto si possa realmente incidere sulle politiche che intendono perseguire invece di essere solo delle macchine che continuano a mangiare soldi pubblici su questo naturalmente c'è un grande lavoro da fare che come opposizione non ci sottraremo certo a portare avanti Un'approvazione diciamo un po' tormentata molto contestata in realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti ma ad oggi il bilancio è la prima cosa un bilancio inutile della fondazione che quindi è un saldo positivo è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo gli organismi di controllo interni ed esterni ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente regione toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale cioè si occupa di quella settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura è stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alvio della prima commissione per una discussione più generale e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci di preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana Guerra in Ucraina gli studenti incontrano gli esperti L'impatto della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e l'impegno della Toscana per l'assistenza e la pace sono stati al centro del forum con il Parlamento degli studenti che si è tenuto martedì 29 marzo nella Sala del Consiglio di Palazzo del Pegaso un incontro dal titolo La guerra in Ucraina quali sfide per la politica internazionale a guidare la delegazione del Parlamento degli studenti il presidente Mauro Cioci Una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici e di sicuro fa paura fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi ragazzi che sono come noi che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi andavano a scuola il pomeriggio vedevano gli amici la sera uscivano mentre adesso sono costretti a fuggire a nascondersi in bunker sotterrani o ad abbandonare la loro patria quindi o appunto andare ad arruolarsi che non è non è di certo un'opzione migliore quindi sì è un particolare momento anche per noi ragazzi che insomma la vediamo per la prima volta una guerra così vicina La presidente della commissione istruzione e cultura Cristina Giacchi ha sottolineato la responsabilità degli adulti alla generazione dei cittadini e delle cittadine più giovani abbiamo chiesto grandi sacrifici per la pandemia per affrontare i lockdown e tutti i provvedimenti e adesso gli proponiamo uno scenario di guerra dico noi lì perché abbiamo lasciato loro tutti quanti noi adulti un mondo violento diviso insufficiente per molti versi e dobbiamo riconoscerlo credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare e quindi aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile il primo servizio civile davvero che si può fare rispondere alle domande delle giovani e dei giovani del Parlamento degli studenti Serena Giusti docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e vicepresidente del forum per i problemi della pace e della guerra di Firenze e Alberto Tonini docente di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Firenze dalle ragazze e ragazzi tanti interrogativi dalle ragioni di questo conflitto all'importanza del diritto internazionale dall'accoglienza delle migliaia di profughi alla disinformazione al ruolo di Nato e Unione Europea il festival del giallo di Pistoia Pistoia diventa capitale del mistero anche quest'anno dall'8 al 10 aprile per la dodicesima edizione del festival del giallo che si svolgerà nello scenario della biblioteca San Giorgio sarà una tre giorni rivolta agli appassionati del settore ma non solo indicativo il tema il giallo è ancora un genere una questione di cui si parla sempre più spesso dato che tanti romanzi affrontano questioni sociali storiche psicologiche nelle quali si inseriscono storie e vicende noir o gialle quest'anno come vedete il titolo è un titolo sì può essere anche provocatorio il giallo è ancora un genere punto interrogativo perché per anni e anni il giallo è stato considerato un po' letteratura ma un po' non dico di seconda mano ma vista un po' con qualche perplessità noi per esempio partiremo la prima sera quando faremo la ricordazione ufficiale con la presenza di tre gentili signori questo è lo di Pistoia la direttrice della nazione è una scrittrice perché tutto sommato rappresentano un po' quello che poi è il giallo cioè la realtà chi meglio di un poliziotto o di una poliziotta che deve occuparsi della realtà il giornale perché il giornale poi riporta quello che avviene e gli scrittori perché con la loro fantasia danno poi una colorazione che può arrivare a tutti e che tutto sommato in tutti questi anni è un momento avvenuto poi nei giorni a seguire i vari scrittori diranno un po' come si scrivono oggi e dei libri giornali anche per l'edizione 2022 come avvenuto per le edizioni passate è prevista un'anteprima giovedì 7 aprile al Circolo Arci Bottegone ci sarà infatti la messa in scena dello spettacolo teatrale Tre Racconti a cura dell'Associazione Culturale Zona Teatro Libero su testi di Marco Vichi che parteciperà alla serata venerdì 8 aprile l'inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 17.30 nella sala maggiore del palazzo comunale poi un calendario ricco di eventi con la presentazione di nuovi libri e sabato 9 con un momento di dibattito sulla mostra prime e rare edizioni italiane su Sherlock Holmes realizzata con materiale preveniente dalla collezione di Gabriele Mazzoni uno dei più importanti collezionisti al mondo sul detective inglese la mostra allestita presso la biblioteca San Giorgio già dal 21 marzo scorso sarà visitabile fino al 10 aprile il programma è molto ricco perché mette insieme gli effetti di tante alleanze non solo gli scrittori che hanno piacere di venire a presentare i loro libri ma anche esponenti della vita sociale del mondo che ruota attorno al fenomeno criminalità criminalità organizzata che quindi racconta anche gli aspetti della verità che stanno dietro a volte tante vicende così come si è unita la dimensione della fiction cioè la trasposizione sul piccolo schermo o sul grande schermo di storie che sono diventate popolari e hanno fatto fare un salto di conoscenza al grande pubblico di autori peraltro importanti pensiamo al caso più clamoroso di tutti Camilleri il caso per eccellenza di fama a livello internazionale fino ad arrivare ad autori anche minori che grazie alla dimensione della fiction sono riusciti a sfondare nei confronti del grande pubblico tanti gli ospiti fino alla chiusura della Kermess domenica 10 aprile con l'assegnazione del premio Pinocchio Sherlock patrocinato dalla fondazione nazionale Carlo Collodi e la premiazione del concorso investigatori a scuola patrocinato da Banca Alta Toscana per i ragazzi delle scuole superiori un appuntamento molto importante che tra l'altro ci vede coinvolti a distanza di pochi mesi rispetto all'edizione 2021 che ha avuto molto successo e che vedrà appunto impegnata la biblioteca San Giorgio e il comune di Pistoia insieme agli altri soggetti che patrocinano l'iniziativa dall'8 al 10 di aprile devo dire che è con particolare orgoglio che portiamo avanti insieme all'associazione Amici del Giallo questa attività che tra l'altro vede per la prima volta a Monte la sottoscrizione di un protocollo di un accordo e di una convenzione con l'associazione medesima che di fatto vedrà strutturata per l'appunto anche questa Kermess ma è bello vedere che ripartono tante iniziative e ce ne sono alcune come queste che non si sono mai fermate l'ottobre dello scorso anno eravamo qui per presentare l'undicesima edizione siamo alla dodicesima io ringrazio l'associazione Amici del Giallo di Pistoia per averci creduto sempre anche nei momenti di maggiore difficoltà quando la pandemia ci teneva chiusi in casa la lettura la capacità di costruire cultura attraverso i libri viene qualcosa di veramente importante il titolo dice sostanzialmente il giallo è ancora un genere io penso sia uno dei generi più belli più importanti e per me come dire una delle letture più frequenti che riesco a fare anzi mi rilassa e mi aiuta davvero a continuare il lavoro in giornate anche complesse come quella di oggi grazie a tutti Grazie a tutti.